L'utilizzo degli ultrasuoni per favorire una miglior tecnica infiltrativa si sta estendendo dalle grandi articolazioni dove è stata impiegata fin dall'inizio, quindi parliamo dell'anca e del ginocchio, anche le piccole articolazioni. Su questo tema il professor Palau dell'Università di Barcellona, ortopedico esperto in chirurgia della mano ma soprattutto nell'utilizzo degli ultrasuoni ha tenuto una lettura molto interessante, quindi ci siamo fatti a raccontare un po' da lui le cose come stanno. Professor Palau, perché infiltra questa piccola articolazione, la mano, la rip e altre piccole articolazioni? Perché questa piccola articolazione ha molte patologie, è una razza molto frequente per la dolce o per la malattia nei pazienti, sono assolutamente uguali a quelle più grandi come il piede o il piede. Tutte le articolazioni possono avere patologie o stertritis o inflamatorio o traumatiche. E' molto importante sapere l'anatomia e sapere come infiltrare questi tipi di piccoli. di piccoli. E perché usano la tecnica ultrassomia in supporto di questo tipo di infiltrazione? E' molto importante sapere e vedere dove ci sono infiltrati. Classicamente, gli surgeons ortopedici usano le nostre mani per toccare il paciente e per orientare le infiltrazioni. Ma molti studi hanno dimostrato, e nella mia esperienza è vero, che quando ti injecti blinde, un 0.5% delle infiltrazioni sono fuori dell'articolazione quando finisci. Quindi è molto importante essere sicuro dove sei e dove ti injecti. Cosa usare questa tecnica? È una tecnica complessa? No, non è una tecnica complessa. È complessa per sapere l'anatomia. Nei bisogna molti anni per controllare e per sapere molto bene l'anatomia, ma solo poche settimane di pratica per sapere come fare l'ultrassomia. Se hai un pochino di attrazione, puoi controllare perfettamente con la mano, la pronta e con l'anatomia, per localizzare l'articolazione. E quali sono i risultati dell'ultrassomia in supporto della terapia infiltrazioni? È molto meglio che la tecnica blinde. È davvero davvero meglio, nel senso che sei sicuro che hai injectato la medicina o la droga o tutto che hai bisogno, in l'articolazione perché puoi vedere come si entra in l'articolazione. Quindi, se il trattamento non funziona, è perché il trattamento non funziona, non perché sei injectato in un po' vero. Sei un sergente ortopedico, sei un'esperienza molto in l'articolazione in l'articolazione, e hai deciso di imparare e insegnare l'ultrassomia. Perché hai fatto questo e perché è importante per il nostro sergente ortopedico che insegnava l'articolazione? Ho insegnava l'articolazione da miei colleghi, rheumatologi, radiologi e altre specialità. E mi insegnava 5 o 6 anni fa. Per il sergente ortopedico è molto difficile introduzione nuove tecniche o nuove tecnologie. e quindi è molto difficile portarli ai corsi. Quindi, da molti anni fa, ho organizato nel Centro della Mata di Barcelona, il Centro di Barcelona, diversi corsi per introduzire questa tecnica a miei colleghi ortopedici. a miei colleghi.